È stato facilissimo integrarsi al Cesena per l'attaccante Borello. Il neobianconero è giunto a titolo temporaneo dal Crotone con il nulla osta di Francesco Modesto che già lo aveva allenato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione al Rende con 17 presenze e 3 gol. L'esordio in bianconero è avvenuto a Rimini in Coppa Italia di Serie C. L'anno scorso mi ha migliorato tanto, mi ha dato tanto e quindi mi sentivo anche in dovere di seguirlo perché ho fatto solo sei mesi ed è stato un po' un rimpianto per me. Volevo fare un anno con lui, iniziare il ritiro perché il suo modo di giocare secondo me può esaltare le mie caratteristiche. Anche la piazza di Cesena stesso, l'aiuto del pubblico mi può dare tanto e quindi spero di fare un'annata buona. Non era partita bene invece l'avventura alle Rende di Rosario Damiano Maddaloni. Francesco Modesto però ha rispolverato le grandi motivazioni del difensore dopo l'avventura negativa vissuta a Fano. Il giovane palermitano ha firmato un biennale col cavalluccio. Il mio primo pensiero quest'anno è stato quello di seguire lui, c'era la speranza. Poi chiaro venire a Cesena è un'altra cosa, è un plus ultra, è tutto bellissimo e quindi è un altro sogno che si realizza. Hai la possibilità di giocare un calcio vero con tifoserie vere ed è tutto più calcio.